Roberto, ma che... che ci fai tu qui? Ho rapinato di nuovo la stessa banca E perché hai rapinato la stessa banca? La prima volta era solo per una perlostazione e per rubare qualche spicciolo Che succede? Hai paura? Dici di no? Che strano Devo proprio fare pratica con questo coltello nuovo No, aiuto, no, basta No, mi piacciono Fate silenzio Sto accordando il mio benjo Accidenti